buonasera a tutti amici tecnico viaggio eccoci qua siamo ritornati 4 marzo fase 2 camminiamo un po per rio terra guardate c'è qualcuno però di questi tempi ci sarebbe stata sicuramente più gente però è normale in questa in questa fase che sia così è normalissimo buonasera ciao come stai tutto bene bene dai benissimo grazie forza e coraggio ciao ciao come vedete ci sono persone amici qui in zona ciao altri come stai bene bene dai bene la famiglia questo è l'importante da oggi abbiamo riaperto ciao buona giornata ciao ciao entriamo anche una calle un po che si dice qua ragazzi io comunque vi dico una cosa amici veramente i colori io li vedo più forti non sarà che veramente l'area è più pulita davvero bello sono Grazie. I negozi sono chiusi qui. Sì, santi. Creperia. Comunque chi è in giro indossa guardie e mascherine rispettano molto le regole qua. Sono brave. Grazie. Andiamo a vedere un po' il lungomare. Quanto ci è mancato il lungomare. Quanto vi è mancato a voi? A me tantissimo. Cioè la cosa più difficile, amici, è stata vivere qua vicino al mare e non poter andare al mare e proprio viverlo il mare. Difficile. Ah, guardate che bello. Guardate che spettacolo. I colori sono proprio nitidi. Guardate che bello. Guardate che bello. Guardate le voce. Guardate gli stai ossicentieriท anni. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 bene amici come è il primo giorno di ripresa a Caorle ci vediamo domani ciao